Si uniscono la Piana del Sele e il Golfo di Policastro. I sindaci di Vibonati e Sapri, Manuel Borrelli e Antonio Gentile, hanno deciso di unirsi ai ricorsi presentati dai comuni di Eboli e Battipaia, rispettivamente guidati da Mario Conte e Cecilia Francese contro rete ferroviaria italiana. L'oggetto del contendere è ovviamente l'alta velocità e con il nuovo tracciato che, come si vince dal progetto, partirebbe da Battipaia per poi attraversare Eboli, Romagnana e Almonte e scendere attraverso il Vallo di Diano verso sud. Per i sindaci della Piana del Sele, il progetto non è fattibile perché andrebbe a devastare interi quartieri cittadini. Per il Cilento e il Golfo di Policastro, invece, la problematica sollevata è quella di essere tagliati fuori dal tracciato, con una ricaduta negativa sul turismo. L'obiettivo è lo stesso, quello cioè di bloccare il progetto. Le motivazioni sono diverse, ma di fatto c'è un ricorso al TAR che contrappone i comuni ed RFI. Adesso i giudici del Tribunale amministrativo regionale dovranno decidere a chi dare ragione. Ovviamente i tempi si allungano e si allontana sempre più la concretizzazione dell'opera infrastrutturale. Nel frattempo c'è da capire cosa farà RFI per la prossima stagione turistica e cioè se confermerà, o meno, la presenza dei Frecciarossa a sud di Salerno. Tale servizio corre sui binari dei regionali ed effettua alcune corse nell'arco della giornata. Facilitando gli spostamenti dei viaggiatori che non devono in questo modo effettuare cambi.